Buongiorno, ciao, dobbiamo andare in gita? Ci sei? Vai, vado giù per il caffè, buona, sveglia, eh? Con che stai parlando, amore? Sei emozionata? Sei super felice perché devi andare in gita? Eh? Amore, che carina che sei. Ti prepariamo? Così ti faccio il panino, mettiamo le ultime cosine e andiamo, ok? Cicciolini, Vanessa è eccitatissima di andare in gita questa mattina con la sua classe a Milano. Non vedeva l'ora che arrivasse questo giorno ed è già al telefono con la sua amica e sono le sei e mezza del mattino. Quindi adesso ci prepariamo e raggiungiamo la classe nel punto prestabilito dalla scuola. E la mia super bambina, eccola, c'è amore, mamma mia, tutti i giorni dovreste andare in gita perché siete specialmente agili, svelti e scattati. Felicità? In persona? Visto che c'è il sole oggi, eh? Fino a ieri è stato bruttissimo, oggi c'è il sole. Tieni il panino, mettiti la bottiglietta d'acqua, poi guarda che io qua dentro ieri sera ti ho messo un pacchetto di fazzoletti di carta, le salviette umidificate, ok? Questo però te lo dovevi portare dentro il giubbotto, avevi detto. No, ma è qui. Che cosa? Ah, sì, sì, qua. Quello lì avevi detto che lo mettevi nella tasca del giubbotto, giusto? Sì, sì. Ecco, quindi l'ho lasciato lì. Il sacchetto secondo me ti conviene tenerlo nel giubbottino, si sa mai. E anche il pacchetto di fazzoletti. Bene, stiamo per andare, siamo saliti in macchina. Ascolta, io ho il braccialetto, quello antinausea, lo vuoi provare a mettere? Eh? Dai. L'anno scorso l'avevi usato e mi hai detto che non sei stata male. Poi se abbia funzionato o no questo non lo so. Proviamo. Sì, amore. L'avevo usato ma non l'avevo stata male. Ecco, quindi vuol dire che ha funzionato, giusto? E lo rimettiamo anche quest'anno. Siamo arrivati, quindi divertiti, buona gita. Mi raccomando, se ti viene la nausea, mettiti il sacchetto. Mangia con calma, mastica bene, becchisci bene. Poi, quando bevi, mi raccomando, non ridi, non scherzare, non parlare con nessuno. Ok? Cosa? Eh, niente. Ah, non ho capito, Gesù. Vuoi che te lo ripeto? No, no, no. Ok, quindi divertiti tanto, eh, tesoro. Oh, amo. Ci siamo solo noi. E ci siamo solo noi, non è arrivato ancora nessuno. Anastasia. È arrivato... C'è Chen, sì, è vero. L'unico compagno che c'è è Chen. L'unico compagno che c'è è Chen. Anastasia, ti abbiamo fatto fretta e alla fine siamo solo noi. Non è arrivato ancora nessuno. Amore, mi manca. Non è arrivato ancora nessuno. Mamma, è arrivato anche... Chi, chi, chi? No, no, no. Ah, sì, è arrivata. È arrivata. È arrivata la mamma. Sorpresa, amore. Non te l'ho detto, ma io vi accompagno. Anastasia aveva chiesto se qualche genitore si offriva volontario ad accompagnare la classe. E io ci sono con te. E io vado. Scendiamo. Grazie, sì, sì. Non mi vuole nessuno, amore. Come mai? No, ciao. Tu mi vorresti in gita con te? No, no. Tu mi vorresti in gita con te? Ma io sono simpatica. Anche i tuoi compagni mi vogliono bene. Anche quelli di Vanessa. Vuoi anche questo della Footlooker? Nel caso in cui... Ma c'è uno. No. Ti prego. Ciao. Ma guarda il pugno. Non lei bella vuole. E' rosa. E' pink. Ma c'è la doppiazza. Wow. Ma dove siamo? Ma spessate, Libbe. Ciao, Tere, sei arrivata? Sì. Eravamo un po' preoccupati, non arrivavi più. Eh, ce l'ha trattata. Ci hai messo un attimo? Eh? Hai dormito? No. Dormi adesso? No. Così ti facciamo le foto. Ti fanno le foto. Eh, sì. Sì, bellissimi. Cosa hai fatto? Le trecine ieri sera? E nel sì. No? O il frisè? No, con la piastra. Ah. Buon viaggio. Divertitevi. E questo sera andata. E non lo so, ce ne sono due. Adesso ne è arrivato un altro. E vediamo quale sarà. E Ani invece. E Ani sta con me, va a scuola. Adesso guardiamo che ore sono però, Ani, eh. Capito? Magari è ora di andare. Vane, ti saluto perché tra un po' salita e io porto Anastasia. Io porto Anastasia a scuola. Che è la brava, eh. Fate le bravi. Cioè, sto solo e che... Ti bacia. Cioè... Ciao, Vane. Ciao, amore. Buon viaggio. Bye, bye. Vanecina è partita. Andiamo a fare colazione? Sì. Veloce perché tra un po' dobbiamo andare a scuola, eh. Sì. Sei contenta perché c'è il tuo compagno, eh? No, adesso ti devi l'estate perché mi hai fatto prendere l'estate. Dobbiamo andare a scuola, Anastasia. Andiamo, portiamo a perdere tempo. More, andiamo a scuola? Sì. Colazione con le patatine stamattina, eh. Mannaggia. Vanecina è partita e aspettiamo che ci mandano qualche foto. E allora, Vanecina è partita. Stanno arrivando delle foto fantastiche che adesso vi allego, ma guardate un po' che ridere in questo Museo delle Illusioni che è troppo, troppo bello. Scrivetemi nei commenti se voi ci siete già stati a Milano, appunto, al Museo delle Illusioni. Ben tornata, amore mio. Sì, amore, cadi pure, eh, non ti preoccupare. Allora, ti devo far vedere delle foto che ci hanno mandato del Museo delle Illusioni che tu morirai da ridere perché adesso vedrai Vanessa in una condizione stranissima. Ok. Sei pronta? Adesso andiamo a casa. Tu hai fatto già merenda in macchina. Adesso andiamo a casa. Adesso mangio ancora. Eh, hai fame. Hai mangiato a scuola? No. Ma hai visto. Sì, no, come no. E poi dobbiamo andare a prenderla appena ci avvisano che stanno per arrivare. Eccomi qua cucciolini, buonasera, sono le 5 e ci hanno appena scritto che sono partiti da Milano, quindi credo che facciano un po' di ritardo, nel senso che l'orario previsto era intorno alle 18, ma secondo me possono ritardare di qualche minuto. E non appena arriva le chiediamo com'è andata, sicuramente benissimo. Stanno per arrivare un quarto d'ora e sono al parcheggio, dai, metti le scarpe dove le abbiamo lasciate stamattina. Metti le scarpe che andiamo. Me le dai, me le dai, per favore. Sì. Ma che ce l'ha portata? Ani, ma hai lasciato la portiera aperta? Ma sei sicura? Era aperta. Dai, dai, che sta arrivando Vanessa che hanno scritto che tra un quarto d'ora sono indietro. Sì, sì. Eh, scusa, però io l'ho trovata aperta la portiera, eh. Solitamente qui non tocca niente a nessuno, forse non te lo ricordi. Va bene, da niente, dai. Hai terrato, mi miro! Com'è andata? Che ridere Vanessa, che ridere. Ma come perché? Tu sulla sedia, non ho mai riso così tanto. Eri piccolissima! Troppo bello! E la braccialetta l'hai tolto? Sì. Non ha fungente, se non sei stata bene? Buono, bene. Sei stanca, vero? Sì, sì. Hai sete, amore, mannaggia. E non c'era nessuno che poteva darti un po' d'acqua. L'han finita tutti. Quasi. Non ci ho pensato a darti due bottigliette. Tu che non ne bevi mai. Oggi, effettivamente, siete stati tanto al parco. Sei abbronzata, sei rossa. Dai, andiamo a casa che tu mi racconti tutto. Allora, amore, siamo tornati a casa. Sei stanca? Eh? Hai bevuto? Ti sei dissetata? Che stavi morendo di sete? Dai, raccontami un po' questa gita. Come è andata? Allora, all'inizio sono stata nell'autobus con Gaia. Sì? All'andata. E siamo divertite molto perché avevamo la gente in giro e parlavamo. Cosa facevi? Tipo, la gente in giro con le macchine. Ah. Davavamo il voto. Ah sì? Sì. E quando... Alle persone che vedevate o le macchine? Sì, anche le macchine. Ah. Più di... Ah, le macchine però. Perché la gente... Non la si vedeva molto. E poi, quando passavamo in mezzo... Nel tourno. Nella galleria. Sì, nella galleria. Urravamo tutti. Wow. Urravamo... Però invece non si... Allora, la seconda volta... Ma poi scusami, siete stati fortunatissimi perché eravate tre classi e due pullman e voi siete saliti da soli sul pullman più bello. Quello con la pubblicità del Novara Volley femminile pallavolo che oltretutto diciamo che è una squadra fortissima la pallavolo femminile di Novara. E quando entravamo nelle galleria ci alzavamo tutti... Ah no, tutti no, alcuni. E alcuni tipo parlavano intanto, tipo urlavano perché i galleria e le messe non ce lo facevano fare. Beh sì, dai. Ma poi, ma no perché io ero per ultima con Gaia. Sì. E dietro c'erano tutti i maschi, no? Ah. E noi eravamo incazzinati. Cioè, incazzinati. Ma c'eravamo divertiti molto quando eravamo portati nelle gallerie. Io vi ho portato il tic tac. Ne abbiamo mangiati un po' anche, passavo agli altri. E poi qualcuno aveva le caramelle. E tu le hai mangiate, vero? Sì. E io che cosa ti avevo raccomandato? Mamma mia, non posso proprio fidarmi. Allora, siamo arrivati a Milano, chi siamo intrati? Vi ho visto? C'era scritto nel cartellino San Siro con la freccia destra. Sì, lo stato. E quelli milanisti perché erano gli altri, con l'isamo e cose quelli. No, ma l'ho messa, perché non giro? E mi l'ho messa. Perché? Il pulmar non gira a destra. Eh, non giro. Sarei venuto anch'io San Siro. No, questo è io il cartello. Bravo. Ma sei stata bene, non hai avuto nausea, niente? Ma ce l'avevi il braccialetto su? Sì. Ok. Poi siamo arrivati che abbiamo camminato e vedevamo... No, no, siamo arrivati a Milano, abbiamo camminato con una classe, la nostra e poi dopo ci ha raggiunto un'altra. Noi siamo in stato il primo turno alla fine. Ah, siete entrati subito? E il museo era bellissimo. No, subito là perché non erano ancora aperti, perché erano le 9.15, apriva le 10. Ci siamo seduti sotto il muretto del museo, abbiamo la messa, ci faccio un peggio, io non l'ho mangiato perché non lo volevo, non ce l'avevo, no? E ho bevuto solo l'acqua e praticamente siamo andati in questo tunnel alla fine più o meno, dove tu stavi camminando, ma girava. Sì. Ah, ah, babà, ma penso, era solo una questione... Chiedi, bovito. ma dai mi piacerebbe andarlo a visitare perché mi sono veramente divertita soltanto guardando le foto e poi siete andati al parco avete mangiato avete fatto merenda siamo andati al parco quello vicino ci sono seduti ci sono arrivati i piccioni e beh certo io Bianca e Gaia avevamo paura ah no non fanno niente non gli andavamo il cibo ce ne erano da tutto allora diciamo che i piccioni è meglio stargli lontano perché portano malattie e sono sporchi però aver paura no non ti fanno niente va bene dai sei molto entusiasta certo questo è il planetario perché il planetario è di scienze per noi pensiamo che il sole è gigante no il sole è piccolino ma brava hai dato una spiegazione molto stimolante diciamo che per chi ti ascolterà sicuramente avrai stimolato l'attenzione non è la voglia di andarlo a visitare e poi a me piacerebbe un sacco andarlo a visitare ci hanno fatto vedere con l'anitario ci hanno fatto anche vedere il video del primo uomo sulla luna sì erano tre sì e loro cantavano mentre perché era sabbia la luna mentre fluttuavano nell'aria perché l'anitario era sabbia ma non fluttuavano luna ah camminavano sì e poi ci ha fatto vedere che se aveva una mela in mano sì l'aveva fatta cadere e la forza di gravità e invece questa nella vita reale guarda ma lo so amore che nella vita reale si fa cadere si fa cadere il temperino magari si roma invece lì andava chiarissimo vuoi andare a parte in giro sulla luna e provare la forza va bene vabbè ci hanno spiegato altre cose e hanno detto che nel 2026 Andrea è la prima donna è vero e poi come si chiama? non lo so non lo sanno ancora chi è e poi siamo andati in questo parco gigante che abbiamo giocato abbiamo mangiato il ghiacciolo ci siamo divertiti e poi siamo andati sull'autobus e all'intorno ero con Giada e dietro avevo Bianca e Giorgia morivamo da ridere ah sì sì poi è caduto questo burro qua cacao e scivolava eh sì andava giù l'avete recuperato? poi Ignazio e anche i miei compari giocavano con la palla in angobus che giocavamo anche al parchetto ma al ritorno eravate in due classi? sì vero? e poi dopo quel parchetto sì guarda però vabbè non mi stiamo andando qui amore grazie di questa spiegazione di mezz'ora ma non vorrei che i nostri can si addormentano siamo andati sull'autobus e abbiamo giocato siamo tornati a casa e viva ma è viva veramente e viva non sei stanca non puoi andare a dormire no voglia di guardare il mio cellulare eh va bene guarda che l'ho visto in macchina il tuo cellulare l'hai lasciato lì stamattina dai vai a prenderlo finalmente sono tornati volevo restare a fare lì però vai ok allora vediamo il mio cellulare no 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 ti dico che è impossibile perché stamattina quando sei partita io sono salita in macchina l'ho visto l'ho guardato ho dirciato quello che fai con il video scrivi perché è giusto che io lo faccia ebbene dove c'è il cambio davanti in quel buco bene hai guardato bene dappertutto si dappertutto oh mamma mia guarda che c'era sono sicura non l'ho portato a casa chiedo ad Anastasia che quando è salita magari l'ha toccato lei va bene vediamo cosa dice adesso io lo chiedo Ani eh per caso Ani smettimi di saltare un attimo per caso hai visto il mio cellulare no guarda che stamattina era in macchina quando lei è partita era in macchina non è che l'hai preso tu no Anastasia ma cosa ti è uscito sotto l'occhio ti ha dato un puglio qualcuno sei caduta dal divano no ascolta sei sicura che non hai toccato il cellulare di Vanessa si era in macchina e non c'è più no Vanè c'è un problema ti ricordi Anastasia quando abbiamo trovato la portiera aperta si e io ho detto a lei che ma magari pensavo che lei l'avesse lasciata aperta perché eravamo tornati da scuola oddio Vanessa speriamo che non mi ha aperto la macchina qualcuno e chiediamo a papà papà non c'è adesso è andato a portare l'operaio a casa si però e dov'è? e se non ho perso il tuo cosa facevi? ho capito ma eh Vanessa l'hai lasciato tu in macchina perché te lo sei portata dietro stamattina? ma perché devo fare su Instagram eh dovevi fare su Instagram e quindi la colpa tua non è mia ma potrei anche mettermelo non lo so eh potevo portartelo in casa si hai ragione non ci ho pensato ma comunque questa è la colpa tua adesso vai tu a denunciare e vai ma tu lo sai che se abbiamo sei perso il cellulare tu ti ricordi tutte le password? si di qualsiasi cosa? no ah ecco sono problemi eh ma prova adesso arriva papà e chiediamo a lui ok? vai vai non ti preoccupare tanto lo ritroveremo Vane Vane a proposito guarda cosa ho trovato no dove l'hai trovato? in macchina hai visto? visto che eri preoccupata comunque Anni veramente pensa se lo portavo veramente vuoi tutte le vado con i miei amici i whatsapp e comunque non ho male che l'ha trovato papà vero cucinini cucinini iscrivetevi al canale attivate la campanella e lasciate un bel e mi raccomando abbratevi al nostro canale vuoi iniziare giustamente vuoi imparare ad andare in bici senza rotelle giusto? quindi noi abbiamo una bici molto vecchia vero? adesso stai facendo merenda perché sei per uscita da scuola la tua bici è molto vecchia guardate un po' come è conciata e non c'è cosa migliore che imparare ad andare in bicicletta senza rotelle con una bici vecchia così che se cadi e la rompi nessun tipo di problema poi la mamma ti compra la bici nuova quando hai imparato va bene mentre Vanessa brava hai già tolto una rotella bravissima vai vai è troppo dura questa vediamo ok vai mitica ma non è meglio se ti metti un paio di scarpe da ginnastica ok boh ragazzi abbiamo tolto le rotelle alla bici di Anastasia Anastasia ascoltami vai a mettere le scarpe da ginnastica adesso abbiamo comprato la bicicletta nuova che è? farla vedere qua va a vedere che bella tu sei già capace ad andare in bici e quindi non c'è bisogno di usare quella vecchia abbiamo preso questa qua nuova guardate che bella guardate si può alzare il sellino dai vai così vai facci vedere no dai stavo scherzando se cadi ma no mi cado l'ho già fatto ah sei già andata da re ah ok Anastasia sei pronta? secondo me dovresti metterti le scarpe da ginnastica no? ok facci vedere la spinta vai amore vai adesso devi aiutarla tu dai Ani devi darti la spinta con una manina eh sì con una manina con un piedino dai ti tengo io un attimino vai dai vai dai ho pronto chi è andata? Vanela devi aiutare tu eh sì eh questa è altina ma sì ma tu sei alta grande vai piano aspetta che arriva una macchina puoi andare non vieni di qua dai Ani dai devi mettere forza sulle gambe mi distruggere la macchina eh capito? quando metto questo piede peraltro cado dai Van e viene ad aiutare Anastasia dai devi tenerla in equilibrio ce la fai? sei abbastanza forte? dai Ani tu ti devi dare la forza con le gambine vai fin davanti però devi essere dritta di qua perché c'è il muro qui dai su 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 e ce la fai eh devi darti un po' lo slancio vai amorino dai si non è tanto bello insegnare i bambini ad andare in bici è abbastanza faticoso dai Anastasia ma è anche piccolina la bici dai prendi forza sulle gambe guardare dritto innanzitutto guarda dritto concentrati tu pensa alla strada dai un bel colpo scusa Anastasia una domanda ma quando andavi con le rotelle la forza sulle gambe la dovevi dare lo stesso perché mi caddava da sola fai la stessa cosa oddio mi stai facendo venire il mal di mare destra sinistra vai dai allora fallo da sola dai spingiti con le mani con le gambine dove vai? fai la spaccata con la bici dove vai? qua di fronte a me guarda che qua siamo arrivati allora fai così vai là in fondo e torna indietro dai l'importante è che tu non tocchi la mia auto mamma che impedita ma sei impedita ma dai lo so che non è facile allora sai cosa devi fare tira su questa gamba quel pedale lì tiralo su tira su quello sollevalo in alto ce la fai? no ok allora vieni avanti un pochino ecco ti lascio? sì sei sicura? sì sei sicurissima? sì per me cadi sì facciamo una pausa ti faccio vedere io guarda guarda come si fa prima appunti per te è piccolissima non riesce neanche a manessa poi ci provo io è difficile è difficile perché tu sei grande oddio allora tu ti devi devi mettere sollevare un pedale e avere la gamba sollevata in maniera tale che con quella gamba ti dai la spinta e poi devi prendere equilibrio guarda che una volta che impari lo fai subito il pezzo difficile è questo gira eh amore ho capito è stato così per tu però mi sono facendo male è stato così per tutti amore non è facile vai dai pronta vai ma che ti lascio eh ma che ti lascio eh vai la spinta dai ha le ruote sgonfi dai ma come stai ha le ruote sgonfissime guardate ragazzi cioè e lei pretendeva di andare con questa bici ma non si può andiamo a gonfiarle ruote dai ciao ragazzi mi hanno fatto fare una fatica bestiale e poi mi accorgo che le ruote sono completamente sgonfie e questo è anche il motivo per cui lei non riesce ad andare avanti adesso io le gonfie vediamo se Anastasia riuscirà entro oggi ad andare in bicicletta senza rotelle grazie Valentino del tuo splendido aiuto perché guarda ma io la stavo facendo si no vabbè non glielo spieghiamo neanche ai nostri cucciolini quanto siamo incapaci perché si 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 sta gonfiando abbiamo provato di tutto e poi la soluzione più semplice era questa ehi hai ragione ma perché mi sono fatta ingannare perché ho visto tutti questi pezzi questi accessori che erano in dotazione con la pompa e pensavo che ci volessero invece no grande Vane grandissima è gonfia adesso non facciamola scoppiare ok adesso dobbiamo essere super veloci tu me lo togli o metto il tappino no faccio una cosa al contrario dai vado no non sei pronta ah boh dai dai non esce tranquilla brava amore perfetto su si meglio si si va bene adesso andiamo su la posteriore dov'è e sgonfia la gomma direi proprio di sì va meglio beh c'è più stabilità ma normale Vanessa ma tu sei troppo grande per questa bici non riesci a prendere l'equilibrio giusto poi lì c'è un muretto non so se lo vedi dai chiamiamo Anastasia sgonfiate signorina sei pronta a diventare una super campionessa adesso adesso sono dure adesso non dovresti avere più nessun tipo di problema cioè dal momento in cui sali tu dovresti andare liscia come l'olio prova vediamo se la mia teoria è giusta non mi guardare male oh oh non ci credo sei andata hai visto che erano le gomme sgonfie ma sei una grande amore aiutami ancora devi girare di qua mitica amore devi prendere l'equilibrio da sola non c'è bisogno non c'è bisogno che ti tiene Vanessina mettere questi e stare dritta no dritta amore mettiti amore ascoltami non devi imparare già devi girando vai su un pezzo dritto girati di là no in qua allora girati di qua gira il manubrio se ti vuoi girare perché con la forza del pensiero la bici non si gira amore pronto girati col manubrio scendi e gira la bici e poi fai il pezzo dritto inizia dai pezzi rettilinei buonanotte buonanotte fiorellino niente non capisce oh dai dai su vai poi senza scarpe zingara si mettono le scarpine quando si va in cortile a giocare che se c'è un pezzo di vetro ti tagli un piede dai sembra una campana bravissima amore bravissima dai su mamma mia oh ma sei uscito dal cortile da sola anni guarda dai vane dargli una mano se no domani siamo ancora qua io mi sto scegliendo al sole dai tienila su non vi potete spostare più in qua dovete stare attaccate al muro ma no ti deve dare una mano ma chiunque impara ad andare in bici ha bisogno di qualcuno che l'aiuti perché devi mettere le scarpe mettiti le scarpe non puoi andare in bicicletta e soprattutto non puoi giocare in cortile senza scarpe perché se c'è un vetro ti tagli un piede e finisci in ospedale entra dentro e metti le scarpe non ci credo bravissima metti le scarpe però Anastasia brava hai visto che sei intelligente intelligentissima adesso sicuramente salirai sulla bici e partirai come un razzo vuoi vedere? vai se riesci a tirarla su hai perso le forze con le scarpe vai amore facci vedere pronta? ok parti con quel piedino oh mio dio amore ma tranquilla ma è normale non ti devi offendere perché tutti i bimbi che imparano per la prima volta ad andare in bici hanno delle difficoltà ma una volta che capisci come si fa non ti ferma più nessuno allora hai il piede in alto quello lì con quello ti devi dare la spinta solo con uno ti dai la spinta con quello e poi prendi l'altro e ti dai equilibrio vai ce la farai vuoi smettere un pochino amore allora tu sollevi un pedale e con quel piede lì del pedale sollevato ti dai la spinta brava dai cerca di farne due almeno fammi sentire le ruote non è che sono no 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 pensavo fossero bucate è molto vecchia questa bici senti vedo che hai le gambe tutte morsicate vuoi un po' d'autan? vieni a mettere le salviette a passarti la salvietta poi fai una pausa io intanto vado a preparare la cena e poi dopo riproviamo dai però sei già stata brava perché per ben due volte sei riuscita a andare un pezzettino avanti da sola ancora così un paio di giorni e vedi che poi riesci ad andare ok? stai facendo merenda? questa è la quarta merenda che fai? no sì certo due gelati poi cos'altro hai mangiato? me sì sì vuoi la salvietta? vuoi la salvietta? ti stanno girando intorno alle zanzare prendila ok cucciolini cucciolini do un po' di tregua da Anastasia perché come avrete ben notato si sta già un po' arrabbiando poi lei è molto permalosa e quindi rischiamo che si mette a piangere quindi lasciamola tranquilla per un po' e poi vediamo se avrà voglia di fare l'ultima pedalata e voi scrivetemi nei commenti a qual'età avete iniziato ad andare sulla bicicletta senza rotelle? come va? sei andata ancora in bicicletta? no vuoi andare un pochino? pochino pochino no perché poi mi stanco eh ma devi provare ancora un'ultima volta eh? hai fame? però non dovreste mangiare queste cose perché tra un po' è ora di cena poi proviamo l'ultima volta prima di entrare? ok adesso è pronta la cena hai ritirato la bicicletta? l'hai portata dentro? no era già dentro ah era già dentro perché ridi? l'ho portata io eh ascolta Ani quindi non proviamo più per oggi? no eh? proviamo domani? va bene dai allora facciamo la cena e andiamo a dormire cucciolina e cucciolina che arrivate nel canale attivate il campione e lasciate un like a questo video ciao 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 troppo cadi dal divano ciao ciao buongiorno bentornate a casa com'è andata oggi la giornata di scuola? è stata calda? sì sta tanto caldo vero? sì allora ieri qualcuno continuava a chiedermi una cosa che io non so che era il film quale film? della sirenetta della sirenetta e io ieri non potevo portarti neanche a te perché avevamo delle cose da fare e andiamo adesso con due campagne sì con due due campagne e quindi siete pronte? sì saliamo in macchina? sì sì oddio andiamo contenta amore che andiamo a vedere la sirenetta? sì aspetta che abbassiamo eh? ieri me l'avete chiesto tutto il giorno però non si poteva e oggi la mamma vi porta anche perché Vanessa oggi non ha nulla da fare non ha compiti finalmente tu invece devi leggere due pagine stasera giusto? e per domani? sì ce l'hai il libro? sì dai adesso aspettiamo la vanne che è andata a cambiarsi che aveva tutti i diamiti pieni di peli di gatto vestita di nero e si va a vedere finalmente la sirenetta che bella sarà sicuramente bellissimo vero? ma cos'è che fanno? eh poi guardiamo cosa ne so io mica l'ho già visto eh ma sarà vestita passiniera? sì è certo amore no è vestita come te oltre in più è andata a scuola certo amore credo proprio di sì vediamo un po' se c'è davvero la sirenetta oppure no eh sì eccola la eccola la andiamo dai che ci stanno aspettando siamo entrate e ci stiamo per sedere ma come le mangio le patatine? e tu? me li dai a me questi così io poi ti do i popcorn buona visione buona visione buona visione finito il film vi è piaciuto? sì bello vero? sì a me piacerebbe diventare una sirena eh anche a me soprattutto se incontro poi un principe come ha fatto lei ti è piaciuto? non è durato tantissimo due ore di film e infatti è sera quasi cioè sono le otto e mezza non abbiamo ancora cenato andiamo subito a casa a mangiare dobbiamo andare a dormire ma tua sorella si è addormentata quindi comincia ad andare a dormire tu che poi la porto su ok? ane dai vai al tuo posto che tra un po' prendo anni e la porto su mamma io voglio essere una sirena sì amore magari in un'altra vita nasci sirena ok? eh? bella come Ariel va bene? ma secondo me tu sei un pochino più bella di Ariel è che l'Ariel di questo film mi sia piaciuta molto le sorelle erano molto più belle va bene buonanotte amore buonanotte ciao oddio oddio che sogno brutto che ho fatto la coda di una sirena? non deve scoprirlo nessuno e adesso come faccio? se la mamma è fuori? c'è un pochino che fastidio oddio c'è l'unico c'è l'unico c'è l'unico c'è l'unico c'è l'unico c'è l'unico ho tantissima paura ho espresso il desiderio di essere una sirena e si è afferrato e non so che cosa fare adesso mi sento tutta la coda viscida è una sensazione stranissima ragazzi scrivetemi in commenti che cosa fare perché io non lo so Ani ma Vanessa non si alza più per andare a scuola stamattina tu sei già sveglia da mezz'ora e lei non l'hai sentita? ha chiamato per caso? no no? ma sta bene? no mi sembra strano che non si sia ancora alzata anche perché è tardissima come al solito facciamo tardi a scuola non si alza mai eh lo so però prima aveva aperto gli occhi li avrà richiusi sicuramente se l'è addormentata vado a finire un attimino di preparare le colazioni eh se la senti dille di sbrigarsi ok? sì arrivo subito ragazzi spero che non manca sia qui è malissimo la coda quando tocco qualsiasi cosa ho sentito i rumori ragazzi non so se la mamma è qui sono diventatissima di andare a scuola non so che cosa fare è meglio che mi nasconde dietro al divano mi sembrava di avere scritto d'amore o forse l'ho immaginate un rumore basta io vado a vedere ciao Onessa, sei tu? Cosa ti è successo? Eh, non lo so, mi sono svegliata così, Anastasia. Cosa devo fare? Devo internavigli subito alla mamma. No, 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 aspetta, aspetta, si può internavare tantissimo. Ani! Ani! Cos'è? No, niente, niente. Come niente, niente? No, Gasper è lì. Non c'è niente. Oh mio, oh mio, oh mio Dio. Vanessa, sei tu? No, no, assolutamente Gasper. Anastasia, cosa è successo con Vanessa? Non lo so. Se te lo so, magari una sirena. Magari mi la mette, Gasper. Ma come fa a essere Gasper? È Vanessa, è Vanessa. Eh, oh, oh, scusa. Buon ventilatore per l'estate però. Anastasia, ascoltami. Ieri sera Vanessa, dopo il film, continuava a dirmi che voleva diventare una sirena. Si è espresso. Dove sta andando? Vanessa, sirena? Ha espresso il desiderio che voleva diventare una sirena e secondo me si è realizzato. Cucciolini e cucciolini. Vanessa si è trasformata in una sirena. Secondo me ha bisogno di acqua. Ha bisogno di fresco, di acqua. Oddio, ragazzi, dobbiamo andare a scuola. Anastasia, ma devo chiamare subito la scuola e avvisarvi che state male, che avete la varicella. Sì, la varicella, perché ci sono stati dei casi di varicella. Chiamo subito la scuola e poi cerchiamo di capire come fare per farla ritornare Vanessa. Perché? Vanessa, come ti senti? Perché la crudavissima è fastidiosa bene. Ok, ascoltami. Non possiamo ovviamente andare a scuola, quindi adesso chiamerò la scuola e gli dirò che non state bene. E poi cerchiamo di capire cosa fare per far ritornare in te, ok? Posso andare sul divano? Certo, se riesci volentieri. Senti, avete fame? Non avete fatto colazione? Dovevamo andare a scuola. Avete fame? Voglio, voglio, voglio. Ah, un attimo. Tu, credo che tu debba mangiare pesci e nient'altro. Sì, non penso che tu... Ho paura Vanessa a darti qualcosa di diverso che non sia del pesce perché non vorrei che tu ti senta male. In questo momento sei una sirena Vanessa e quindi dobbiamo adattarci. No. Amore, te ti faccio pane e nutella? Sì. Eh? E te ti darò delle acciughine. Eh, lo so, mi dispiace, ma io non so come comportarmi. È una situazione particolare. Fammi una crepa e una nutella. Ma non puoi mangiare la crepa e la nutella. Sei un pesce. Io penso che se ti do la nutella tu possa anche morire. Quindi ti devo dare delle acciughe. Allora, Annie, ti ho preparato la crepa e la nutella che so che ti piace tanto. E... Adesso ti porto il tuo. Un secondo solo. Eh, poverina, mi dispiace, amore. Lo so, però... Non dovevi dire che volevi diventare una sirena. Ti sei avverato il tuo desiderio. Non sei contenta? No? Quindi? Non vuoi più essere una sirena? Vuoi ancora essere una sirena? Ok, va me... Per te. L'acciughina. Dai, amore. Mangiala, che ti fa bene. Dai, che è piena di proteine. Brava. Mangiala, amore. Buonissima. Mangiala. No, no. Mangiala pure. No. Dai. Su, che devi mangiare? Che mattina è la colazione importante. No, no. Basta. Oh, e cosa fai? Non mangi oggi? Non mangio. Ok. Allora, ascoltatemi, non ho ancora chiamato la scuola, vado a chiamarla perché sono in ritardo. Vado a chiamarla a scuola. Pronta? Eh, sì, buongiorno, sono la mamma di Vanessa e Anastasia. Buongiorno, Idita. Buongiorno. Senta, stamattina Vanessa si è svegliata come se fosse un pesce piena di bolle, sì, piena di bolle, piena di bolle, presa via la varicella. Managgia. Eh, sì, quindi devo tenere a casa anche Anastasia perché non vorrei che anche lei l'abbia contratta e ce l'abbia ancora in incubazione. Avviso subito le maestre? Va bene, avvisi pure le maestre. Grazie, buongiorno, grazie. Chi è che si è mangiata la mia creppola? Vanessa, sei stata tu? Ma come ti sveglia Ernesta? Ma cosa succede? Cosa c'è? Mi sono andata la mia crepola. Vanessa! Ma Vanessa, non puoi, ma sei matta, sei una sirena, non puoi mangiare la cioccolata. E se stai male, cerca di controllarti, dobbiamo capire come fare per farti tornare di nuovo umana, ma non fare questi errori. Ani, dobbiamo fare qualcosa? Sì. Dai, lasciala stare, cerca di capirla. Aveva voglia di mangiare la creppola Nutella, del resto Vanessa le ha sempre mangiate, ma adesso non puoi più. Mi fa un pochino male la gola. Ecco, stai attenta perché non so quale reazione tu possa avere. Vai subito a lavarti. Allora, ragazze, non litigate. Vogliamo fare un gioco? Giochiamo un po' a nascondino? Sì. Vi va? Pensi di essere in grado? E vediamo se sei bravo a fare la sirena. Eh? Visto che volevi essere una sirena, dimostraci di poterlo fare. Chi conta? Io. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Arrivo! La 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 la, qui non c'è nessuno. Vedo una coda. Ma, come ti sei permessa? Guarda che com'è. Guarda. Si vede la coda. Chissà se è qualche, è qualche. Chissà, chissà, chissà. Oh, una sirena. Presa, pesciolina. Ma dove scappi? Oddio. Dove scappi? Non sei ancora brava a fare la sirena. Non sei ancora brava. Ti devi allenare per essere una brava sirena. Va bene, ascoltate. Dobbiamo fare una cosa molto seria. Adesso, a parte gli scherzi, dobbiamo cercare su internet come fare per farti tornare umana. O vuoi restare sirena? No? Sì, potete andare a scuola. A parte gli scherzi, la cosa sta diventando veramente seria e quindi datemi cinque minuti per capire come fare. Ok, Vane? Vane, mi dispiace tantissimo che sei diventata sirena. Vane, 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 cosa c'è, Vane? Perché piangi? Oddio. Cosa c'è? Ho fatto un sogno bruttissimo. Cos'hai sognato, Vane? Oddio, me lo male. Cosa c'è, Vanessa? Perché ti guardi le gambe? Non è male. Ho sognato tipo che stavo sognando e poi mi sono svegliata. Era tipo che eri una sirena. Che eri una sirena? Oddio, Vanessa, sei andata a dormire dicendo che volevi essere una sirena e te lo sei sognato? Anastasia, Ani, tua sorella ieri sera, tu ti sei addormentata ieri sera quando siamo tornati dalla cinema e non sai che mi ha detto tutta e tutta la sera che lei voleva diventare una sirena, voleva diventare una sirena e ha sognato che era una sirena. E perché stavi piangendo adesso? Perché alla fine volevo diventare normale. Ah, non ci sei riuscita, amore. Non credo che si possa tornare umani, eh, se si è sirene. Comunque, stai tranquilla che non sei una sirena e non lo diventerai mai. Cuccioline, cuccioline, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E' arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Pappo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù. Ma- Ma-